Perché acquistare? Noleggia! Chiedici come! Soft Technology, via Piano d'Ardine 48B, Avellino, telefono 0825 610 435 Oltre alla triennale finalmente avremo un corso di laurea magistrale, un passo davvero importante, tutti se lo attendevano e finalmente è arrivato E sì, infatti il percorso di studi si completa con la laurea magistrale, ovviamente questo ci consentirà di aumentare la ricerca Insomma di essere praticamente presenti soprattutto nel settore della ricerca, ospitare dottoranti di ricerca Quindi gente che può venire come adesso ci chiedono da tutto il mondo perché noi siamo qualche modo La nostra ricerca ha un impatto notevole a livello mondiale nell'enologia, abbiamo richieste di ricercatori di venire da noi Non l'abbiamo potuto fare fino ad oggi perché ovviamente non abbiamo le strutture per poterli ospitare Ma con l'istituzione della laurea magistrale, con l'ampliamento della sede, la possibilità di poter ottenere dei laboratori all'altezza di una ricerca di eccellenza Noi ovviamente da questo punto di vista secondo me decolleremo in maniera, diciamo, rinverdiremo quella che è la tradizione degli studi enologici in questa provincia Che furono voluti da Francesco De Santis nel 1878 Noi faremo di tutto affinché questo corso di laurea magistrale possa essere di forte attrazione anche per studenti extra regionali che hanno conseguito la triennale in altre università Ecco, questo è un punto fondamentale perché questo significa creare le condizioni di vera eccellenza Cioè perché la consacrazione dell'eccellenza è uno studente che si muove da un'altra regione per poter andare a studiare in quei luoghi in cui riconosce effettivamente il valore di un alto insegnamento, di un'alta formazione E lo stesso questo studente, quest'allievo, come dico spesso, diventa poi ambasciatore appunto della sede universitaria in cui ha studiato E nel caso specifico del vino appunto che è un settore estremamente strategico e importante per l'Italia e quindi particolare e specifico Diventa ambasciatore anche dei territori vitivinicoli che ospitano il corso De Santis 137 anni fa appunto disse che la nostra Irpinia aveva questa vocazione vitivinicola e quindi doveva essere sfruttata in pieno Noi ricordiamo sempre queste parole del De Santis e le stiamo applicando con un'innovazione tecnologica e attraverso anche metodi di studio innovativi Come l'alternanza scuola-lavoro che è sempre stata fatta nella nostra azienda Niente abbiamo, si sa insomma le persone del posto sanno che abbiamo le cantine, abbiamo la distilleria, abbiamo questa azienda E quindi siamo un fiore all'occhiello dell'Irpinia, siamo conosciuti a livello nazionale e siamo una delle eccellenze come quella di Conegliano Veneto e quella di San Michele Alladice